signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale prima di abbandonare il discorso sui dungeon non lineari c'è ancora un argomento estremamente importante di cui dobbiamo ancora parlare il backtracking lo avrete visto dal titolo grosso modo potreste tradurlo come tornare indietro o più letteralmente tornare sui propri passi questa è un'altra di quelle cose che apparentemente possono sembrare ovvie si va da sé che gli avventurieri volendo possono tornare indietro mentre esplorano il dungeon anzi molto spesso ci sono delle situazioni che o li obbligano li incoraggiano a tornare indietro per evitare di finirci tutti morti però quando il backtracking non viene vista come un evento casuale che può succedere durante il gioco ma come uno strumento che viene pensato e poi applicato in quest può aiutare notevolmente a migliorare l'esperienza dell'esplorazione quando parliamo di dungeon di notevoli dimensioni o veri e propri mega dungeon non perdiamo altro tempo quindi e andiamo a vedere come utilizzare volutamente il backtracking all'interno dei vostri dungeon parlando di progettazione non lineare ho detto più volte che la struttura dell'esplorazione dovrebbe essere concepita come concentrica e che in linea di massima il party dovrebbe poter accedere a tutte le zone da tutte le zone nel caso dovete andarlo a recuperare vi lascio qua su il video in cui ne parlo in maniera esplicita non sto a perdere altro tempo adesso una delle conseguenze interessanti per il nostro discorso che questa progettazione concentrica porta è quella che durante l'esplorazione del dungeon anche gli eventi diciamo per semplicità le singole stanze che i giocatori incontreranno saranno a loro volta incontrate in un ordine non lineare in un dungeon convenzionale gli eventi che avvengono all'interno sono pensati per essere sequenziali il master sa che i giocatori esploreranno la prima la stanza 1 e poi la stanza 2 di conseguenza se per aprire la porta nella stanza 2 serve la chiave magica quella chiave sarà all'interno della stanza 1 perché è l'evento che il master sa accadere prima dell'arrivo degli avventurieri alla stanza 2 in un dungeon non lineare però questo non si applica potenzialmente i giocatori potrebbero accedere a qualunque stanza o a qualunque evento in un qualunque ordine di conseguenza quando i giocatori arrivano alla fantomasica stanza 2 potrebbero non aver incontrato proprio la stanza 1 e quindi non essere in grado di poterla aprire a questo punto quando si renderanno conto che gli serve quella chiave per andare avanti la loro unica possibilità sarà quella di proseguire l'esplorazione finché non avranno trovato la stanza 1 e quindi la chiave e questa è probabilmente la prima e più semplice applicazione del backtracking all'interno di un dungeon per amore della semplificazione definiamo questo tipo di backtracking come backtracking necessario cioè nella pratica quando le scelte dei giocatori li costringono a ripercorrere un'area già percorsa perché si sono lasciati alle spalle qualcosa o perché qualcosa gli è indispensabile per poter fare quello che vogliono fare l'esempio della chiave era estremamente banale però era per arrivare al punto fate attenzione però che non c'è seriamente una situazione del genere potrebbe portare un backtracking gli avventurieri non dovranno necessariamente tornare in un'area già esplorata per trovare quella chiave ma potrebbero doverne esplorare una nuova per trovarla questo è un elemento che accentua e favorisce il tema dell'esplorazione all'interno del mega dungeon senza necessariamente essere backtracking è però comunque possibile che i giocatori man mano che procedono nell'esplorazione soprattutto se non hanno una mappa perché magari sono loro quelli aver mappare quella zona semplicemente non esplorino totalmente un'area prima di abbandonarla magari perché non si rendono neanche conto che c'è ancora roba da esplorare e quindi semplicemente più avanti quando si renderanno conto che non hanno finito di esplorare qualcosa decidano di dover tornare indietro in un vero e proprio mega dungeon questo potrebbe non essere necessariamente legato alle zone ma magari alle fazioni all'interno del mega dungeon magari i primi contatti e gli avventurieri con la tribù locale di umanoidi sono stati estremamente violenti si sono limitati a falciarli ogni volta e li incontravano ma man mano che proseguono nell'esplorazione e si accorgono che questa tribù controlla un territorio decisamente vasto magari con delle zone che a loro interessano o che semplicemente hanno bisogno di avere alleati all'interno del dungeon decidono di metaforicamente ritornare sui loro passi e magari cercare di trovare una soluzione diplomatica con i abitanti del dungeon attuali o magari con una delle fazioni che controlla un'area del dungeon diciamo comunque che il backtracking necessario è quello improntato a un bisogno che sia un bisogno materiale o che sia un bisogno in realtà materiale perché probabilmente vogliono alleati perché hanno finito il cibo e l'acqua non necessariamente però il dover tornare indietro deriva da un errore dei giocatori da una loro mancanza o anche solo dalla casualità in cui accedono alle stanze anzi un master astuto potrebbe volutamente sfruttare il backtracking per rendere più interessante l'esplorazione del dungeon in questo caso il modo migliore per implementare questo all'interno del dungeon è utilizzare la tecnica narrativa del foreshadowing ne abbiamo parlato la settimana scorsa in termini generali adesso vediamo come si applica il master potrebbe volutamente inserire nelle aree lungo il percorso dei giocatori delle situazioni delle stanze quello che è sapendo bene che non potranno essere sbloccate nel momento in cui verranno trovate ma che necessiteranno che i giocatori facciano qualcos'altro da qualche altra parte per poterle sbloccare quando gli avventurieri finalmente riescono ad accedere al relitto dell'astronave che galleggia nel vuoto da centinaia di anni scopriranno che la maggior parte dei sistemi è disattivata e non c'è energia a bordo quindi la maggior parte delle porte stagne è semplicemente chiusa e non può essere aperta in sicurezza fino a quando l'energia non sarà riattivata di conseguenza i giocatori dovranno scendere nelle viscere del relitto trovare la sala motori ripararla e far riattivare il generatore per ridare corrente a tutto il relitto e questo permetterà loro di tornare indietro e man mano aprire tutte le porte accedere a tutte le aree accedere ai computer o quello che è tutto quello che prima non funzionava adesso riprenderà a funzionare e probabilmente tra tutto quello ritorno a funzionare ci saranno anche i sistemi di sicurezza della nave e questo è un caso particolare in cui non solo abbiamo il backtracking di per sé ma abbiamo tecniche di foreshadowing perché i giocatori man mano che scendono verso la sala motori vedranno le aree anche se non possono accederci quindi si ricorderanno che ci sono dei posti in cui loro devono tornare ma dato che una volta acceso il motore tutta la nave si riattiva e le sue difese si riattivano questo diventa tecnicamente anche un reverse dungeon anche di questo ne abbiamo già parlato in questo caso comunque mostrando ai giocatori quali sono le possibili dirammazioni nel dungeon prima che loro possano effettivamente accederci il master da una giustificazione in fiction molto più pesante alla loro esplorazione i giocatori non sanno più esplorando l'astronave nella speranza di trovare dei tesori o quello che è i giocatori hanno un obiettivo cioè trovare la sala motori perché sanno che una volta che l'avranno conseguito potranno accedere a aree che sanno cosa sono e sanno cosa contengono e cosa potrebbe esserci di utile per loro a quell'interno se si sta usando un regolamento che prevede un avanzamento per livelli di classe o comunque per una curva di potere che ascende in maniera successiva banalmente un qualunque dungeon and dragon questo potrebbe essere anche un modo per il master per poter giustificare all'interno della fiction del gioco come mai i giocatori non sono soggetti a uno sbalzo di grado di sfida nei mostri che incontrano il master può fare in modo che le aree in cui sono previsti i mostri di livello più alto siano per qualche motivo bloccate fintanto che i giocatori non fanno qualcosa che per loro è possibile fare solo da un determinato livello in avanti e quindi questo giustificherà perché i mostri che i giocatori incontrano sono tutti più o meno nel loro livello semplicemente perché ci sono anche quelli più forti ma adesso non possono uscire da dove sono e ovviamente questo dà al master la relativa tranquillità per cui i giocatori potranno comunque esplorare liberamente ma il master non dovrà temere che esplorando liberamente vanno a poi cacciarsi in situazioni che non sarebbero oneste da parte sua perché metterebbe il party contro qualcosa che semplicemente il party non potrebbe battere ovviamente anche possibile che gli avventurieri decisano di tornare in un'area precedentemente esplorata senza che questo abbia nessuna relazione con le meccaniche previste dal dungeon diciamo che questo tipo di backtracking il backtracking spontaneo avviene quando semplicemente i giocatori per motivi loro decidono che vogliono tornare indietro in un'area che hanno già visitato questo può avvenire per i motivi più disparati e non necessariamente per via della non linearità del dungeon magari semplicemente i giocatori si sono imbattuti in un incontro con dei nemici che ritengono essere troppo forti per loro o che per vari motivi gli ha causato più danni di quelli che si aspettavano e decidano di ritirarsi in un'area che sanno essere già pulita e quindi più sicura per recuperare punti ferita rigenerarsi fare quello che devono fare prima di proseguire nell'esplorazione non dimenticate neanche che voi come master probabilmente avete davanti una mappa completa del dungeon o comunque una mappa completa delle zone del mega dungeon ma questo non necessariamente vale per i giocatori i giocatori potrebbero semplicemente decidere di tornare indietro in un'area che loro credono in non aver finito di esplorare anche se in realtà l'avevano esplorata del tutto magari questo potrebbe avvenire proprio per dei fraintendimenti legati a un backtracking programmato i giocatori trovano una porta che non possono aprire e si convincono che la chiave sia in una zona che hanno già visto invece che se è una zona che devono ancora visitare magari per voi è ovvio che sia in una nuova zona ma loro non possono saperlo come master in casi come questo probabilmente sarete tentati di dire esplicitamente al party che no stanno andando la direzione sbagliata però valutate bene se tutto questo che state facendo il mega dungeon è volto all'esplorazione esplorare vuol dire anche tornare indietro più semplicemente sbagliarsi dire ai giocatori che si stanno sbagliando rovinerebbe la loro esplorenza esplorativa se questo quello del party vuole quindi non necessariamente un'idea saggia da parte vostra avvertirli dipende da quale la volontà del party se poi come master avete bloccato determinate aree con del backtracking programmato e adesso i giocatori le hanno sbloccate può anche darsi e quando poi ci entrano per la prima volta scoprano comunque di non essere abbastanza forti o che loro ritengono di non essere abbastanza forti quindi decidono di tornare indietro per vedere se riescono a trovare altro equipaggiamento o a fare esperienza con nemici più semplici potenzialmente ci potrebbero essere un sacco di motivi l'importante che voi come master teniate sempre a mente che è comunque possibile che a un certo punto gli avventurieri tornino indietro anche se voi questa cosa non l'avevate affatto prevista e per voi probabilmente non è l'idea migliore che il party potrebbe avere come master voi dovete accettarlo e andare avanti con la narrazione che il backtracking nel vostro dungeon avvenga volutamente o incidentalmente che sia qualcosa di programmato o che sia una scelta spontanea ai giocatori non dovete dimenticarvi che il fatto che un'area sia stata già esplorata voglia dire che all'estero quell'area è vuota e quindi è noiosa anche se i giocatori hanno sconfitto tutti i mostri e rubato tutti i tesori questo non vuol dire che l'area rimanga per sempre deserta questo però è un argomento estremamente lungo e questo video oramai è finito quindi ne parleremo nelle prossime settimane per questo video invece è tutto adesso la parola sta a voi ditemi se voi usate il backtracking nei vostri dungeon come lo avete utilizzato o come avete fallito nell'utilizzarlo nel caso come sempre se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che dovuta crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate il server di discord del gruppo i telegram dove metto io i video manualmente dove si riunisce anche il resto della community sia il master cae per il resto io sono il master cae e noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao ciao